Musica Oggi ci troviamo sotto il monte Giovanni XXIII Per i nostri due passi ci troviamo al cospetto dell'antichissima chiesa delle Caneve molto cara a Papa Giovanni XXIII quando naturalmente ancora non era diventato Papa anzi ci veniva quando era un bambino ma il motivo per cui ci troviamo qui oggi in questo posto paradisiaco ai piedi del Monte Canto è che dobbiamo intraprendere il sentiero cosiddetto via di Vanni chi è Vanni? Vanni è un signore, uno scultore locale che ha dedicato tempo, energia e passione a scolpire gli innumerevoli massi che si trovano lungo questo percorso che si snoda per 4 km fino ad arrivare alla cima del Monte Canto appunto disseminando di sculture sue personali questo sentiero qui subito vicino alla chiesa possiamo vedere questo bellissimo fiore vedete diciamo come è alto in base anche al confronto che si può fare con me qui invece troviamo un'altra pietra dove sono scolpite le tre chiese principali tre luoghi principali di sotto il monte che hanno un significato per il Papa la chiesa dove lui è stato battezzato il santuario delle Caneve e Camaitino che adesso è una sorta di museo e dove Papa Roncalli veniva a trascorrere le sue vacanze qui invece troviamo rappresentata la Madonna delle Caneve che all'interno della chiesa è in forma di dipinto e che ebbe grandissimo impatto su Papa Giovanni sul piccolo Angelo Roncalli racconteremo l'episodio in un altro momento ora inerpichiamoci su per il sentiero alla ricerca e alla scoperta delle strabilianti sculture di Vanni Grazie a tutti abbiamo questa scultura che è veramente suggestiva trovarla qui in mezzo a questo ambiente boschivo è di grande suggestione è una scultura anche di notevole bellezza enigmatica e anche grande ecco qui troviamo un'altra meravigliosa scultura molto grande ha questo caratteristico triangolo sulla fronte gli occhi sono chiusi anche sul naso ha un triangolo e anche qui tra gli occhi ha un altro triangolo ha questa bocca semi aperta sembra sorridente e forse questa barba sotto il monte che porta al monte canto e ribadiamo queste sculture sono state fatte dal signor Vanni un appassionato scultore locale che ha un'altra meravigliosa scultura delle sculture di un capo indiano bellissimo e della sua compagna guardate la finezza anche della rifinitura dell'abito delle trecce e non è facile scolpire su questa pietra piuttosto robusta piuttosto dura che bella fantasia e che bell'opera e intanto continuiamo a salire questo sentiero non è solo per gli escursionisti è battuto anche dai biker dagli appassionati di mountain bike è un sentiero assolutamente segnalato molto ben segnalato dal cai e con ramarico abbiamo appreso appunto proprio da uno di questi bikers che il signor Vanni è morto circa tre anni fa questo ci dispiace molto anche perché avevamo letto che era sempre molto disponibile a spiegare le proprie sculture ai visitatori e a coloro che intraprendevano questo sentiero ecco qui ci troviamo al cospetto di un'altra delle sue sculture questo personaggio sorridente con questo copricapo un po' a punta è molto caratteristico vediamo che la vegetazione di questo periodo siamo al 14 febbraio 2021 è una vegetazione ideale per questo tipo di escursioni perché no 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 Grazie a tutti. Ma questa scultura è veramente bellissima. Questa frattura che vediamo era già esistente quando il signor Vanni si mise a scolpire il masso. Quindi ha tenuto conto anche di quella. Il risultato è strabiliante. Le fattezze del personaggio che ha rappresentato, con queste narici molto larghe, ricordano le sculture messicane, olmeche direi. Grazie a tutti. Siamo arrivati. Praticamente abbiamo lasciato il sentiero principale che porta alla cima del Monte Canto. E abbiamo intrapreso questo sentiero che è siglato con SDS, cioè Sentiero delle Sculture. È un sentiero che poi non conduce a nulla perché è una strada chiusa. Però lungo questo sentiero si possono vedere altre sculture del signor Vanni. Qui, per esempio, in questo anfratto roccioso, vedete, è abbastanza importante, direi chiamato addirittura grotta, sono stati scolpiti i volti di Cristo e di Papa Giovanni XXIII. La religiosità popolare ne ha fatto poi un altarino. Vedete, hanno appeso una lanterna con lumino, hanno messo delle statuine, dei ceri, un rosario. Qui hanno attaccato a questo ramo vegetale anche un nastro. E qui c'è anche una invocazione. Perciò ci raccogliamo anche noi in riflessione, accanto a questa manifestazione di devozione popolare, in questo luogo naturale, dove la mano dell'uomo ha semplicemente plasmato quello che la natura o il senso di ineffabile, il senso del divino, ha insito in certi luoghi. Guardate poi qui anche la meraviglia di trovare anche le stalagmiti, guardate che belle, di ghiaccio, perché qui essendo un punto particolarmente in ombra, è stato interessato da questi candelotti ghiacciati che si possono vedere solo in questa stagione naturalmente. E qui hanno anche messo una piastrellina con scritto Cammino de Santiago. Grazie a tutti. Grazie a tutti.